Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione E bella a tutti ragazzi, siamo qui con questo nuovo video, con questa sfida Voi direte, perché una sfida del genere? Perché mi andavate falla, ok? Perché mi andavate falla come... Grandissimo mail! E bella a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale Oggi siamo qui con questa sfida Assieme alla pastarella numero uno Perché? Perché non lo so perché Però mi andavate falla come se il genere Perché noi siamo agab Del tipo alle 5 al bar Quindi oggi faremo questa sfida ragazzi Eh? Oh Ma che cazzo è stato detto? Oh merda Spacchettiamo evidentemente Sono usciti i Toz ragazzi Vi aspettavo da 12 mesi, da FIFA 14 Forse meno mesi Perché comunque FIFA 14 va detto Bra 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 Pecca di il pezzo Ma per quello c'è un giocattino a se Apre il pacchetto 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 Apre tutti i sensi Noi apriamo sempre tutto Quindi ragazzi Siamo qui Questo nuovo pacchetto Primo pacchetto Dei toti Ricordo che questi sono i toti scelti Toz Fail su fail Incredibile Vi ricordo che questi sono i toti? Scelti dalla community Sa tutto Quelli Quelli originali Che girano fra una settimana O una Anche due Un'altra e mezzo Beh insomma Ma questi So quelli veri Quelli veri Incredibile Si sono Kratitsky No aspetta non lo schippa Incredibile Ti ho detto che porta bene schipparlo C'è mai trovato o scea Incredibile Terzo Quanto c'è il managlio? Zero Nove e mezzo Come non? Nove e mezzo Ranocchia Incredibile Che merda Porco Tua Eeeh Qui trovo Ho fatto tipo un agudo strano Che cazzo è? Però non è possibile che tutta YouTube Italia trova il mondo Io non trovo niente Pure Exet che assieme a me era lo YouTuber più scarso Eeeh Oh la madonna Mamma mia Mamma mia Tutti i doppioni Oh ma chi è andato che non vado a un cazzo Tutti i doppioni E vabbè Devono valere qualcosa loro Oh dio 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 Si 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 Non ci posso vedere Non ci posso vedere Il confondo Che abbiamo trovato Cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato? Comunque le carte con il dorso di quest'anno sono la cosa più figa che ci sia Guarda l'ignoranza! Ma stai guardare carta? Ma la prima volta ho trovato un tozzo in vita mia O Dio O Dio Che ti dico? Che? No abbiamo trovato un laziale, niente Abbiamo trovato Dio Ma questo lo metti E' un giocatore blu come un puffo Questo lo metti nella springk in difesa E' vero! Fa anche intesa con The Goodman Fa anche intesa con The Goodman God come un maiale uscito dal nido Cosa è? Che maiali fanno le uova Voglio anche Steven Gerrard Lo invio al club Vabbè non puoi inviare al club Vedi quanto costa? Non vale un cazzo Confronto agli altri Sti cazzo è tozzo Vuoi quanto è bello? E' pure la Lazio Però sti cazzo Andiamo al club Vedi che mi sbaglio e lo scarto Masha Ma questo è il meglio spacciatore del Roma Nord Ma che c'hai del vetralla? Hai visto? Hai visto? Che lo dovevo aprire tutto io? Aspetta è brutto di così Bene ragazzi Per questo pack opening Siamo giunti al termine Abbiamo trovato un Tots Ovvero Ovvero lui Ovvero Devrai Mamma mia Comunque sono veramente bene le carte Tots Come diceva la pastarella Avvicio Però potresti anche guardare la telecamera Se non devi dire un joystick Che ti arriva puntuale là Vi invito a lasciare un bel pollicione in su Se questo video è piaciuto Lasciate un bel Ho detto la stessa cosa In questo episodio fail Su fail Su fail Su fail Su fail A questo punto lo riniziamo Lasciatemi iscritto nei commenti che sto a scuola di oggi Se volete anche nel prossimo pack opening dei Tots Lui Niente Se non lo siete già iscriviti al canale Che devono fare poi? Lasciate like Quanti andiamo a arrivare? Quanti like? Quanti iscritti hai? Troppi? Allora pochi Ok perfetto Arriviamo a quanti cazzo che pare l'apiche Bene